Momentai ragazzi sono André Gorossi, bentornati in questo nuovissimo episodio di State of Decay Allora siamo arrivati alla fine del gioco praticamente Probabilmente, probabilmente, cos'è questo? Ah, che cazzo? Porca vacca mi è sembrato che fosse uno zombie, qualcosa del genere Allora siamo arrivati alla fine del gioco perché questa è tipo la missione finale Perché dobbiamo lasciare la valle, però Allora, intanto fammi posare qua Guarda qua che roba Ok, lasciamo questa roba qua Sì, ok, perfetto Allora, questo è, cioè potrebbe essere l'episodio finale anche Quindi, cioè potrebbe, non ne sono certo al 100% Se sarà l'episodio finale, semplicemente ci sarà scritta la parola finale, no? Nel titolo, altrimenti no Potrebbe essere il penultimo, terzultimo, insomma Siamo praticamente agli sgoccioli pure su questo gioco qui Allora, cosa voglio fare subito, subitissimo? Allora, siamo in 13 e ragazzi, penso che sia arrivata ora Di trasferirci Allora, c'è E di cambiare proprio base Ora, non mi ricordo dove che era C'era una base qua Ecco, potenza... aspetta, cos'era qua? A questo Proviamo ad andare qua e a trasferire la nostra base Sì, non ha senso in questo momento Cos'è? Un'orda Mannaggia Allora, aspetta perché non mi ricordo Allora, 71, 67 Ho 5 di materiali Mi sa che non ce la faccio 5 di materiali Ok, non ho abbastanza materiali Quindi E arrivare a 50 è un po' Cioè È un'impresa Un'impresa Belle, belle, buona Porca, va che ne avevo così tanti di materiali Eh, ma li hanno sprecati loro Perché io dicero no Gli ho sprecati i materiali Dovrei anche canabriare i veicoli in realtà Questa cos'è? Una 4 Quella è una 4 posti Non sarebbe male Effettivamente sì, vabbè Eh, ok Qua non c'ho niente Sì, perché Questo SUV In realtà Ci sta già lasciando Allora Potrei provare Qua nella zona Eh no, però se vado qua Nella zona nuova Eh no, vedi che Niente Io ho paura di attivare la missione finale Però se vado per di qua Perché effettivamente in questa Zona Nella zona finale qua Della mappa Ho esplorato poco e niente Quindi c'è una marea di cose da prendere Tipo a desi Cos'è? Ah, posso usare questo veicolo? Uh Ok, qua Potrei trovare qualcosa Non lo so Cosa posso trovare Cos'è sta roba? Ah, ci posso entrare? È aperto? Ma Qualcuno ha bisogno di fare due chiacchiere Non adesso Perché Sto facendo altro Uh, guarda qua Guarda questi Dai, vieni Là Uccidere gli zombie Non è mai stato così facile Perché ci sono delle bombolette lì Non mi piace Allora, quello lì Lo ignoriamo Lo ignoriamo Completamente Questo qua Meglio farlo fuori Ora Qui ho già fatto E qua dentro ci sarebbe un casino di roba da prendere Però Aspetta Perché effettivamente Visto che sono da solo Qui la cosa è un po' I cacchio Ma vai via Ah Bello Aspetta che c'è uno qua Che vuole fare la finta Ok Qua Potremmo trovare Non so Se dei materiali O chissà che altro Chi è? Ah, quello là Ah, questo magazzino mi piace Che cazzo Luogo scoperto Ma È un magazzino Effettivamente Quindi qua Dovremmo trovare 800 miliardi di robe Sì, però Ad arrivare a 50 Non lo so Potremmo usare Quel SUV lì Effettivamente Vediamo Ah Ok, c'è Dell'altro ancora qui Ma allora Adesso vediamo Allora, questo è Cos'è? Quattro slot Vediamo 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 Qua dentro Stai dicendo Che qua dentro No, non c'è niente Acqua Ah, le cose Bello Ah Allora, sì No, non è Vado Non è vado di fretta Perché potrebbero esserci Degli zombie Qua in zona Cibo No, non mi serve Cibo Mi serve Mi servono materiali Ah, qua si esce Per giunta Va bene Qua dentro Ah, qua dentro il bagno Non lo so se No Effettivamente no Il bagno Però magari Dei medicinali Ci potrebbero stare Tipo nel bagno Avrebbe senso Allora, qua Cibo o bibite Cibo o bibite Qua Senti Senti versi Urco Spero che non Mi si rompa L'arma No No A parte che L'ho anche Riparata Ecco, vedi Una piccola quantità Di resistenza E fredda Il caffè Vabbè Quindi Quindi Solamente Cibo E niente Di più Vabbè Quindi qua Dovremmo aver finito Più o meno Sì Va bene No Non si è schiantato male Qua dentro Non lo so Se c'è qualcosa Ciao Qua Ne piegheremo gli anni Qua ci piegheremo gli anni Non c'è niente Chi è? No Aspetta Non mi piace Già che sono in tempo Fai così Ah E' lui? L'ho lisciato Tantissimo Ok Ma non so Neanche se Posso entrare In tutti Gli edifici Ma quello? Ma chi è? Vuole fare Ma che cazzo? No Aspetta Ma lo Stai vedendo? Ah potrei uscire Per di là Là Si va direttamente In strada Allora qua Non lo so No Qua forse troverò Più cibo Che roba Perché per I materiali Dovrei andare Per Nelle cose Di Stoccaggio Tipo Nelle fabbriche Qua Cibo Qua principalmente Cibo Cosa? Acume? Ah Scarabocchi? Non so Perché Ah sta arrivando Uno Lo vedo L'ho visto Sulla Minimappa Cibo No ma qua Inutile Continuare A cercare Perché Ah sono qua Ok Speriamo di trovare Qualcosa di utile Ah Minimarket Oh si Che culo Che culo Meno male Che ho messo La macchina Già qua Pronta Ehm Possiamo Finire Di Guardare Qua Ora Dice Che c'è Del Del Cibo Anche Aspetta ma qua Niente Ah ma è sempre qua Secondo me Si vedi è la Stessa cosa Si è lo stesso edificio Mi indica Vabbè Dove cacchio ho messo La macchina Vaffan bagno Via Levati Non lo so Se qua dentro Non lo so Qua dentro Ma che ca C'è l'esercito Qui What the fuck Così Ehm Vabbè C'è io ho Più roba Delle Dell'esercito Ok Molto Molto Realistico Ok Non sapevo Che c'era Sta roba qua Qua Occhio Che c'è Un'orda Lì Qui O Qua Sento Dei V Versi Tanti Versi Qua dentro Troverò Tipo Munizioni Sicuro Uh Aspetta 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 Che arrivano Quelli Bravi Bravi Correte Così Provo Così Vi voglio No Non è vero Ti stavo Colpendo Porco quanti Ma quello che cazzo Oh Oh Allora Uh bene Bene Il magazzino Proprio quello che cercavo Merda Ma guarda Quanto sono Baggati Sti cosi Allora Cosa c'è Qua Ah Una bomba Petrolio Porca Da lì Sono Dietro La Portale Prima o poi La sfondano Eccola La Che cosa ho detto È vuoto No Scusa Benzina Qua forse Trovo Pronti Benzina Ce ne ho anche Troppa E infatti Porca vacca Sono già Metà vita Morfina Tutto 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 Ma usa Dai Che così almeno Mi recupero La vita Senza usare I vari medicinali Che già ho È triste Quella Capirai No Sono Io triste Perché Non trovo Materiali sono a cortissimo di materiali vabbè materiali da costruzione vabbè proviamo a cercare altrove c'ho ancora due slot qua merda sicca no aspetta di qua di qua di qua di qua via no non faccio vaffangala non faccio il tempo a trasferire la roba da questo veicolo a un altro guarda lì quando eh tipo adesso che non ho nessuno ah non so se qua possiamo trovare qualcosa occhio no qua dentro prevalentemente cibo ah la vabbè non stiamo a perdere nemmeno troppo tempo con questi allora queste sono case prevalentemente case porca vacca quante orde ma qua è dove ero prima poi ecco ecco c'è uno c'è un orda là niente a questo punto sei cosa portiamo a casa queste due cose va niente niente allora non possiamo trasferirci allora perché siamo troppo a corto di materiale stare serve 50 io ne ho 5 e vabbè no no ma non mi fermo eh non mi fermo occhio qua potremmo ritornare là nella città grande perché lì mi sa che ancora non ho esplorato completamente tutto ma che cazzo via a cazzo no aspetta ah perché ho ucciso l'orda due due orde tipo vabbè allora uno eh ma mi sa che forse ci da 10 tipo 10 di materiale ah no una po' di più 15 tipo ok se ci se ci da 15 alla volta no comunque a 50 mi sa che non ci arriviamo eh che due allora eh 35 allora questa volta cambiamo guarda che non ho resistenza uso questo che così almeno c'ho più slot e più roba almeno va il sub il sub militare va cioè militare mimetico allora andiamo a cercare altri materiali che eh fermarci qua non è proprio il massimo eh vigili non so se nel vigili del fuoco c'è qualcosa nel cantiere non lo so ora sai cosa proviamo ad andare nella città vaffangala perché effettivamente c'è c'è dell'altra roba lì in cui tipo c'è un cantiere una sorta di magazzino c'è la caserma dei vigili del fuoco che non so se possiamo trovare dei materiali forse lo spero ma non lo so c'è anche del rng in questo gioco credo ciao bam questo cos'è un mezzo frutteto no neanche aspetta che c'è qualcosa anche lì no ma qua mi sa che non troviamo cosa che ha cioè no proprio antisgamo di quelli ah no proprio una baracca distrutta vabbè ah forse potevo tagliare per di là però vabbè qui non c'è c'è niente o c'è della roba fammi vedere qua non so so se qua c'è c'è della roba da prendere forse sì ah c'è eh forse qui c'è qualcosa no forse ho già depredato mi sa di sì vero ho già depredato qui adesso il bagno ma perché non sento i miei passi ma chi è sta roba sia sia a parte quella quella cassa toracica ma dicevo ok un fucile a pompa sembrerebbe che è fucile semiautomatico ok non so se allora potrei anche prenderlo su però ma nel dubbio vabbè di qua si esce quindi non devo andare per di qua ah c'è un c'è un c'è un organo allora andiamo per di qua allora eh no vedi non è rimasto nulla quindi vuol dire che ho già depredato infatti mi ricordavo porca vacca 800.000 anni ad accendere un veicolo veramente non so se è fatto apposta o cosa però allora questi distributori questi sono due distributori questo è un market anche quello un altro market qua forse troviamo qualcosa aia qua forse troviamo qualcosa questo è tipo un mezzo cantiere edile perché perché ho sentito un pum perché perché sta venendo quella cosa di brutto che cazzo no peta questa musica no dirmi che sta venendo qualcosa aspetta aspetta forse per via dell'orta può essere eh devo ritornare immediatamente affambagno no missione addestramento devo andare a a provo a tagliare per di qua lorda sta attaccando la casa arrivo effettivamente questa strada sai che forse non l'ho mai 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 fatta è la prima volta che faccio questa strada uh qua c'è qualcosa no non dirmi che è bloccato no è tutto bloccato non posso passare sta attaccando la casa vaffangala eh di qua posso passare però ma è tutto chiuso ma che cazzo ora non so se no mi sa che ho perso più tempo che altro facendo quella strada lì vaffangala zitta cioè te pensi a queste cose mentre mentre gli zombie stanno attaccando la casa ah no ah ok l'hanno e che cazzo che cazzo io mi stavo pure preoccupando e sono anche torrento è nato indietro è qua dove è questo ma 35 no qua dentro qua dentro forse qua dentro forse potremmo trovare quello che mi interessa eh vedi no ma qua forse più carburante mi sa qua forse più un più carburante dell'altro eh anche lì dai sbrigati 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 ma che cazzo sì ah prendi sì vedi sei nativo che qua c'era quello che mi serviva ma io le prendo tutte e due no è vero perché perché devo tenere premuto eh no che sono un po' agitato è quello e non va bene se sei agitato orco se sei agitato non devi giocare a state of decay cos'è l'ho allertato cacchio merda merda c'è l'obeso no comunque qua c'è solo carburante sembrerebbe io ho paura perché c'è l'obeso lì non so se può attraversare vabbè questo lo faccio fuori ma c'è l'obeso lì guardalo guardalo là guardalo là merda c'è pure un'orda no 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 l'altro non lo non lo controllo per sicure vaffangala lo controllo uguale solo benzina qua quindi solo benzina mi dici allora se cosa almeno una una di benzina me la porto via neanche lo metto qua dentro ma ritorno nella nella mia base questa la faccio fuori c'è proprio tutti in fila così e strike sì sono sempre stato bravo a bullying ok ora direi di ritornare a casa anzi se riesco a fare le cose in fretta quasi quasi vai veloce veloce ok abbiamo ancora due slot forse due slot può essere non ho non ho visto bene perché magari potremo ripassare per di qua ed andare a vedere dove c'era l'aereo distrutto tipo l'aereo precipitato cosa c'è qua no non è dirmi che c'è un nido no non c'è no 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 non è un nido però qua che cazzo no no non è un nido ma qua non c'è niente di interessante sì lo so basta basta ok basta che cacchio ah cacchio è quella che urla lisciato ok ok sono sull'aereo precipitato ah qui spero di trovare delle cose utile quello là sta ballando ma niente di che pensavo no 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 ah niente solo solo quella roba lì cazzo un aereo precipitato pensavo fosse c'è che ci fosse più roba da prendere ah invece no quanto pare eh sì qua dentro eh qua dentro però aspetta che mi posiziono bene ma posso ah sì ui vabbè bomba no erano in troppi lì effettivamente erano in troppi allora sì però tu nel dubbio chiudi ehm fai uno di questi osserviamo la porta ma che cazzo non l'ha manco aperta no ma che no che che maledetti meritate il ban che cazzo che cazzo bussate ma vaffangala che cazzo guarda zombie zombie che cazzo ah finiamo qua cos'è cibo basta solo il cibo c'è ehm niente pensavo qualcosa di meglio effettivamente qua e cos'è dove qua ho già ho già controllato sì ora non so se può può bastare o meno non lo so effettivamente non lo so porca no il ciccione no il ciccione no il ciccione aspetta un attimo ma qua non ho finito di controllare ho sbaglio ah no ho preso tutto scherzavo mi ricordavo male che qua tra l'altro c'era anche un clio qua è precipitato un clio lì tra le altre cose adesso torniamo a casa e poi cazzo sta già fumando non so se con queste cose riusciamo a da arrivare a a 50 di materiali dico allora veloce dai veloce veloce è un'orda è un'orda è un'orda maledetta vai fate bullying fate bullying bravissimi allora prendo questo e uno di questo che sono due quindi quindi vabbè sono tre borsone in realtà però due di materiali e uno di carburante oh si siamo a 50 50 50 mangiate uno snack va intanto 50 però non mi accontento prendo quest'altro così arriviamo a boh non so e poi anche un altro di carburante perché perché siamo in 12 aspetta c'è anche questo perché siamo in 12 aspetta eravamo in 13 prima che è è morto uno ma dai dai uno se ne è andato in casino da raccaccia agli zombie ma allora ok eh ma siamo in 12 non possiamo adesso riprendo questa però ma va che roba allora che cacchio è qua cerca cerca e porta in salvo no dai no 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 non dirlo eh provo java subito qua in alto no ma qua in alto non c'è figurati eh figurati se è qua ma ho già controllato tutto ah manca veloci odio questo tipo di missione no di qua si esce neanche qua eh allora è lì spero non c'è eh è qua non è qua non c'è sì certo che cosa capisci io ti chiudo la porta allora porca vacca salinto c'è che è qui ma porca vacca dov'è il piano di sopra no non è qua non è qua porca vacca ti sparerà in testa però so che sarebbe controproducente lo so però porca vacca se lo meriterebbe però un proiettile in testa dov'è che lo devo scortare ah vabbè qua gra 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 ui 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 che si va si va nello spazio qua c'è qualcosa no ok perfetto siamo ritornati in 13 ok 65 69 ok cerco e porto in salvo non so questa roba qua che cacchio è dimmi sonè però facciamola e se faccio in tempo poi proviamo ad andare nel magazzino la anzi no tipo nell'autofficina è tipo dovrebbe essere tipo magazzino grande mezzo no non non uno non vi uno fammi vedere bene dov'è ok nella strada che c'è qua questa qua poco più avanti ma cos'è che vuole questo zombie militare che sta qua dentro immagino ah l'abbiamo individuato non lo so io non l'ho visto non so do ah questo si porca vacca ok ora vabbè e andiamo no non è la legge questo andiamo qua subito diretto subito diretto subito diretto monnagia cazzo cazzo la portella no mannaggia il genf il maledetto meno male che non avevo niente nel nel baule meno male non avevo niente non ci avevo niente vabbè questa cosa è quattro posti vabbè il baule non sarà capientissimo è la disinfestazione ma tanto adesso noi ci trasferiamo quindi se non fanno delle cazzate mentre mi sto spostando cioè i sopravvissuti quelli là che stanno là nella base dai su che questo episodio volevo volevo dedicarlo al trasferimento della della nostra base operativa e sembra che ci ci stia riuscendo ma guarda questi vabbè adesso saranno tutti più felici forse non lo so allora ciao allora siamo qui siamo qua ci siamo ecco l'unico problema è che non c'è un parcheggio cioè non esiste un parcheggio tipo può essere c'è tipo un parcheggio interno ma devo ma devo per la forza parcheggiare tipo il veicolo fuori ecco vedi che c'è anche la cosa del meccanico mi sa che non sono da solo ok magazzino forniture Snyder dai facciamo qui proviamo trasferisci la tua casa base da un logo corrente a quello qui ok no questo è un posto trasferisci base vai vediamo ah così proprio benvenuti beh vediamo un attimino beh direi che l'obiettivo che mi ero premesso direi che l'ho completato bene allora ma come funziona aspetta ma qui ah quindi qua chiesa richiede 5 persone ah 5 persone 20 materiali potenziale casa ah vabbè qua dentro allora scusa come funziona adesso eh vedi questo cos'è scusa ripare il ripostiglio ah e ciaude ah qua serve per riparare tutto ecco vedi no camera da letto ah guarda qua gli avamposti ah beh ah ok allora sì ma che senso abbiamo finito il gioco cioè che cacchio sto ad allestire qua tutte le robe scusa eh vabbè però qui almeno abbiamo abbiamo già ok abbiamo trasferito forse serve tipo il laboratorio può essere ma che cazzo no ma tu vedi guarda accendo anche la la torcia ma tu vedi tu vedi guarda sembra presente tipo in golden sun no quando ti unisci no con il resto del team no che si inglobano insieme uguale guarda uguale golden sun style proprio vabbè ci siamo trasferiti questo era l'obiettivo di questo episodio per cui ragazzi direi che per questo episodio di state of the key direi che è tutto vi ricordo che se non siete ancora iscriviti i canali iscrivetevi se volete maniera aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di tutti gli episodi attualmente attivi di mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto questo episodio e mi raccomando di dare anche la vostra nei commenti noi ci risentiamo abbatti uno zombie corazzato ah beh perché qua adesso ti ridanno tutte le missioni le robe e mi raccomando di dare anche la vostra nei commenti e noi ci risentiamo a un prossimo video